Continua a crescere il numero delle domande di contributo per il caro mutui sulla piattaforma telematica dell'IRFIS da parte delle famiglie siciliane. Si è raggiunta quota 14.544 istanze inviate, con altre 5.750 in lavorazione. Così il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, ha commentato l'andamento dell'iniziativa messa in campo dal governo regionale a favore dei nuclei familiari che hanno subito l'aumento considerevole degli interessi passivi dei mutui a tasso variabile per l'acquisto della prima casa. In base al numero di domande pervenute, ha continuato Schifani, la richiesta di contributo impegna la metà del fondo messo a disposizione, pari a 50 milioni di euro. Segno che la procedura segue il suo iter regolare e a 14 giorni dalla scadenza, previste il prossimo 29 febbraio, la risposta di adesione è più che soddisfacente. Sono tantissime le richieste per accedere ai benefici che la regione siciliana ha deciso di stanziare per contribuire a allenire il caro mutui degli ultimi anni. Secondo il report IRFIS, le richieste sfiorano quota 11.000 per ottenere il bonus caro mutui della regione siciliana. A dirlo è stato l'assessore regionale all'economia Marco Falcone, dopo le polemiche per il funzionamento della piattaforma online, con la regione che assicura che si sta gestendo al meglio il notevole flusso di richieste, con tempi d'attesa che si accorciano sempre di più. Sono numeri che confermano il gradimento dei siciliani verso la misura di sostegno voluta dal governo Schifani per le famiglie, a contenimento dei pesanti rialzi dei tassi di interesse patiti negli ultimi mesi, ha detto l'assessore. Ci sono ancora più di 20 giorni di tempo per fare domanda e ci aspettiamo un'ulteriore crescita delle adesioni, ha continuato Falcone commentando l'andamento delle richieste del battezzato bonus caro mutui della regione, gli aiuti a fondo perduto finalizzati all'abbattimento dell'aumento dei tassi di interesse su mutui a tasso variabile per l'acquisto della prima casa destinati ai residenti in Sicilia. Nello specifico, la piattaforma ha conteggiato 7178 istanze inviate, a cui si sommano 3730 istanze in bozza.